Musica Anche quest'anno la protezione civile della Puglia, in vista dei tre mesi definiti della massima pericolosità, ha dotato il programma operativo di adazione per la campagna 2014 con cui fornire agli operatori impegnati utili e puntuali indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto e di contenimento degli incidenti boschivi e di interfaccia. Secondo quanto previsto dal piano triennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incidenti boschivi 2012-2014, dal 15 giugno fino al 15 settembre la sala operativa unificata permanente sarà attiva 24 ore su 24 presso il Servizio regionale di protezione civile per coordinare le risorse umane e i mezzi operativi durante le operazioni di spegnimento degli incidenti, ma anche garantire la salvaguardia del patrimonio ambientale nel rispetto delle norme in materia di ambiente, territorio ed aree protette. La sala operativa, composta da rappresentanti della protezione civile, del colpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco e dell'ARIF, l'Agenzia regionale per le attività irrigue forestali, disporà anche quest'anno del supporto di 130 associazioni di volontariato che forniscono un aiuto decisivo nei mesi estivi, nella speranza che non debba più ripetersi quello che è accaduto l'anno scorso con Nicoletta Lo Sappio, volontaria della protezione civile a morte a Trimintapoli durante alcune operazioni di spegnimento. Il Gargano batte il Salento per le presenze turistiche. Anche senza l'aeroporto, il Gargano, nei numeri, batte ampiamente tutto il resto della Puglia e piazza nella classifica generale della rivista turistica Mercuri, ben sei località. Pieste la capitale incontrastate, in base ai dati dell'Istat, la città del Pizzo Munno, con il suo 1.900.000 presenze, è nettamente prima in Puglia, precedendo le Salentine e Mugento, Otranto, mentre Peschici è quarta con 711.000 presenze. San Giovanni Rotondo invece si attesta a 460.000 presenze, Rudi Garganico a 407.000 presenze. Un record scoperto a posteriore, grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Mercuri per la Puglia promozioni. Negli ultimi dieci anni, secondo l'ottorevole rivista un termine di volontari assoluti, la Puglia ha fatto registrare un aumento di presenze di quasi 5 milioni. La nostra regione è quella che in maniera assoluta ha visto aumentare il numero delle presenze. Comune di Manfredonia, un disoccupato tenta di darsi fuoco in comune. Ieri un uomo di 35 anni aveva riferito alla moglie che sarebbe uscito per cercare qualche parente, per ricevere un aiuto, ma diversamente da quando ha comunicato, il protagonista si è fatto avanti, si è diretto verso il comune portando cos'è una bottiglietta di benzina in una busta. L'uomo avebbe poi parlato con un vigile piangendo ed esternando tutta la sua disperazione. Lo stesso operatore della polizia municipale, presente all'esterno della stanza del sindaco, avrebbe tentato numerose volte di rassicurarlo. Improvvisamente poi l'uomo si sarebbe cosparso i vestiti con la benzina e avrebbe in seguito cercato di darsi fuoco. Ma tanto il vigile presente sul comune quanto una guardia giurata dell'istituto e i presenti avrebbero prontamente evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Manfredonia. Agli uomo sono stati consegnati i podimenti puliti per un ricambio. Da quando è stato relazionato, l'uomo disoccupato di 35 anni aveva aperto un'attività commerciale un po' di tempo fa e poi ha dovuto chiudere a causa di un debito non pagato. Negli ultimi giorni il 35enne ha cercato in vano di chiedere aiuto a chiunque per comprare il necessario per i propri figli. E nell'ascoltare i familiari ormai loro vivono nell'ansia perché il gesto avvenuto ieri mattina possa anche magari un domani ripetersi, visto lo stato di ispirazione che l'uomo e la sua famiglia sono in questo momento. Grazie per la visione!